Passi avanti per la nuova viabilità nella zona della stazione. Il Comune ha affidato a un professionista la verifica di assoggettabilità, valutazione ambientale strategica dell'intervento di riqualificazione dell'area della stazione. L'area oggetto di riqualificazione è quella che va dal piazzale della stazione passando per Borgo Rivera e zone attigue. Con questo intervento si intende ripristinare la continuità tra centro e periferie. Cambierà la viabilità con l'eliminazione di due passaggi a livello, la realizzazione di un sottopasso, verrà eliminato anche l'attuale ponte che non è più adeguato alle esigenze del traffico locale, alle esigenze di sicurezza. I dirigenti di RFI già si sono incontrati con l'assessore all'urbanistica De Santis e con l'assessore alla sicurezza stradale Cucchiarella. Il progetto attualmente è solo nella prima fase, la sistemazione del piazzale e la realizzazione del parcheggio di scambio. Poi si passerà alla successiva, un intervento da ben 20 milioni di euro. Da quando siamo insediati ormai sono due anni che stiamo lavorando al piano di riqualificazione di tutta quest'area. È un percorso che parte da lontano ma che si sta concretizzando con la nostra azione amministrativa. Entro dicembre porteremo il piano di riqualificazione in consiglio comunale, esproprieremo gran parte dei terreni di questa zona, pedonalizzeremo tutta quanta via Tancredi da Pentima, il lungomura, realizzeremo un parco verde che scenderà fino al fiume e soprattutto un'infrastruttura viaria, un intervento davvero massiccio, parliamo di quasi 20 milioni di euro, buona parte sono stati finanziati proprio con l'ultima Cipe, per realizzare una viabilità a scorrimento veloce che ricondurrà fino alla Mausonia e quindi permetterà che questa zona non abbia più i problemi di traffico e di ingolfamento che conosciamo bene tutti quanti. Ecco anche un modo per collegare in modo armonico centro e periferie. Ma assolutamente sì, sarà l'intervento viario più grande degli ultimi dieci anni. Grazie.